Eh sì, se fosse facile sarebbe facile, ma non lo è amici, guardate, siamo a Volturno, queste sono le immagini che abbiamo registrato per voi, per farvi capire quanto è difficile il nostro lavoro, vedete, il nostro pick up sta entrando in spiaggia e guardate, guardate, dove ci siamo infilati, guardate. Eccolo qua, siamo dovuti spingere, abbiamo dovuto trovare la strada migliore per poter attraversare la curva, la spiaggia, le dune e poi arrivare fino a destinazione, guardate dove ci siamo infilati, guardate. E pazzi come noi a spingere a tirare fuori il nostro pick up dalle sabbie mobili di questa sabbia che a Volturno ci ha avvolti in pieno, ma poi finalmente siamo arrivati a destino, guardate, guardate dove ci siamo infilati, amici, guardate. E finalmente la spiaggia che ci aspetta e voi che state per arrivare, stiamo allestendo il nostro stand, quello in spiaggia, il pick up, il nostro articolo più prestigioso, quello che ci mette a disposizione di voi che siete in spiaggia e state per divertirvi. Il pubblico sta per arrivare, siamo quasi pronti, Castel Volturno, un'avventura che è iniziata due giorni prima per potervi aspettare, guardate cosa abbiamo attrezzato per voi. E poi finalmente acqua fresca, noi per voi abbiamo allestito anche il secondo punto a lato palco, stavate per arrivare ed eccovi qua i nostri prodotti, guardate, guardate dove ci siamo infilati. E poi voi che così di corsa state andando alla transenna per godere di Lorenzo, del suo spettacolo, dei suoi ospiti e di quello che sarà stato lo spettacolo più bello dell'estate. Giova Beach, Giova Party, mamma mia ragazzi, un successone, tanta fatica, tanto sudore, tanto sole, tanta sabbia, guardate, guardate, ci siamo infilati. Giova Beach, Giova Beach, mamma mia ragazzi, guardate, 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 guardate.